Anche i tabaccai di Pesaro, colpiti dall'attacco hacker che nella notte di sabato ha manipolato in tutta Italia alcuni distributori automatici. Fuori al freddo dal 41 bis. Questa è la scritta citata sul display delle macchinette automatiche dove il prezzo di ogni prodotto in vendita era stato abbassato a soli 10 centesimi, un prezzo irrisorio. Anarchici simpatizzanti di Alfredo Cospito, attualmente detenuto in regime di 41 bis, hanno colpito il sistema informatico di tutti i distributori realizzati dall'azienda mantovana Laser Video. Il punto debole sfruttato per hackerare i distributori sarebbe il lettore di tessere sanitarie e carte di identità elettroniche, utile a riconoscere l'età dell'acquirente. Questo processo di riconoscimento determina la necessità di connessione alla rete, che gli hacker avrebbero utilizzato per manomettere la rete di distributori. I tre tabacchi colpiti sul nostro territorio sono stati quello in Viale Trieste di Marino Matteo, quello di Mario Riccardo alla Kuwait in strada delle Regioni e a Fano quello di Giacomo Tomassetti. Un attacco che ci ha un po' sorpresi. Nello stesso tempo siamo rimasti soddisfatti di come ha funzionato la macchina organizzativa, perché ho avuto la notizia dalla dirigenza nazionale nella tarda serata del sabato, verso le 10.22, un'ora inconsueta che dice cosa è capitato. Alla fine tramite sms, le chat e quant'altro sono riuscito subito a informare dell'accaduto i presidenti provinciali, i vari responsabili del Consiglio e anche i tabaccai. Quindi diciamo che l'informazione è andata bene, perché casi eclatanti di tabaccai colleghi che sono stati penalizzati e a cui magari hanno svuotato il distributore non ce ne sono stati. A livello ragionale è uguale, ho sentito i presidenti provinciali, solo nel Fermano sembra che ci sia un tabaccaio che ancora deve valutare qual è il danno, diciamo così, però dove si siano avventati per prendere questi prodotti al costo di 10 centesimi. Adesso resta di capire come mai sia successo questo hacker che ha entrata all'interno del sistema informatico di laser video e tutelarci in modo che certe cose non accadano più. L'importante è che riusciamo a quantificare i danni, poi se dei danni ci sono vedremo come poter andare incontro a chi ha avuto il danno di questo fatto.